Un annuncio senza precedenti in una democrazia, la tv pubblica chiusa per decreto. La notizia è stata data dal portavoce del governo greco, Simos Kedikoglu. Lo shock ha subito lasciato il posto all'indignazione. Davanti alla sede della Eert, l'azienda radio-televisiva di Stato, c'è tanta gente. Con una paginetta di decreto incostituzionale, un singolo atto legislativo, in una notte distruggono o vogliono distruggere la tv pubblica. Allungano le mani sulla Eert e noi, i dipendenti, gliele stringeremo in una morsa. Le trasmissioni di tutti i canali radio e tv del servizio pubblico cesseranno dalla mezzanotte. Ripartiranno nelle intenzioni del governo con una struttura sai più snella rispetto ai circa 2800 dipendenti attuali. Ma i lavoratori non ci stanno e annunciano che non lasceranno le sedi dell'emittente.